Martedì 29 dicembre 2020. Mancano due giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno del capricorno. La chiesa ricorda San Davide Re. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Davide e David. Il nome è di origine ebraica e significa amato da Dio. Il numero porta fortuna è il 2, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. Il 29 dicembre del 1934 si disputa la prima partita di pallacanestro universitaria al Madison Square Garden di New York tra Università di Notre Dame e Università di New York. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 29 dicembre ricordiamo il cantautore Cristiano De Andrè, l'attore inglese Jude Law. La citazione del giorno. Il riposo è una buona cosa ma la noia è sua sorella. Voltaire. Dice il saggio. Se il viaggio è lungo, anche una piuma pesa. Il bel paese. Ci si può rialzare dopo una tremenda caduta, lo sappiamo noi umani e lo sa anche il piccolo borgo artistico di Bussana Vecchia, situato su una collina alle spalle di Sanremo. Distrutta da un violento terremoto alla fine dell'Ottocento e divenuto per molti anni un borgo fantasma, Bussana Vecchia si è rialzata pian piano negli anni grazie ad un gruppo di artisti, filosofi e artigiani che hanno ristrutturato le antiche costruzioni, trasformandole in nuove residenze e in studi artistici. Sebbene il piccolo borgo abbia trovato nuova vita con botteghe artigianali e particolari atelier, uno dei luoghi più interessanti da visitare resta la chiesa di Sant'Egidio, il cui fascino paradossale appartiene ai resti sopravvissuti al terremoto e agli agenti atmosferici. Grazie